Ciao sono Paola Peroni e ogni venerdì vi aspetto al Convento di Lonato per divertirci prima, durante e dopo la cena per divertirci anche con i nostri spazi social per divertirci con la migliore dance e gustare le specialità dello chef Fabio Taglietti Venerdì doc al Convento di Lonato divertirsi con gusto convento.it e al convento dopo le 23 si entra gratis